Oh, deep in my heart I know that I do believe we shall overcome someday Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Parigi per la settima marcia internazionale della libertà dei popoli oppressi ma abbiamo visto oggi che i popoli oppressi sono tanti, parliamo anche di minoranze e parliamo anche della persecuzione dei cristiani nel mondo come oggi ci stiamo rendendo conto quello che è emerso è che l'unione, la libertà di poter manifestare insieme fa la differenza anche qui a Parigi pensate ad esempio che questa marcia è iniziata ben sette anni fa per sette volte Liberi.tv è stata presente nelle altre piazze come Roma ma quest'anno invece è qui a Parigi per essere di sostegno a tutte quelle minoranze come i tibetani, i laoisti, gli uguri e io dico sempre anche la minoranza cristiana come mai più di tutti in questo periodo è sotto l'occhio del ciclone per i massacri che stanno avvenendo quindi è importante essere qui oggi noi, tutte le minoranze, tutte le persone per dare sostegno a Società Libera, a Vincenzo Lita, a tutte le persone che sono state qui oggi per sostenere e organizzare questa marcia di modo che ci possa essere anche l'ottava marcia quest'anno, cioè l'anno prossimo, non sappiamo ancora dove ma Liberi.tv sarà sicuramente presente qui Riccardo Cristiano, Parigi, buona marcia a tutti e grazie di essere qui con noi a sostenere Società Libera e tutte le minoranze insieme